Una doppia, quella di stasera, io ho una puntata speciale, stiamo osservando l'artista, cosa prepariamo stasera? Prepariamo la burkline, prepariamo la burkline, quindi parlerà il nostro padre archeologo Gianluca Io sono invitato e curioso di far stare, come abbiamo iniziato Gianluca? Il nostro artista, sei misterioso, setacciando farina Allora, abbiamo messo farina 00 in quantitativo di un chilo Iniziamo con un chilo di farina Vai a prendere l'acqua Vai a prendere l'acqua Che bello, lo facciamo in quattro Lui partisce oggi e noi in quattro Mettete anche una cosa bianca e rossa qua, così guardiamo il cantiere Secondo me, non è che ha setacciato proprio bene bene Acqua Iniziamo ad utilizzare la tecnologia Quindi partiamo da una ricetta totalmente altissima Non è una ricetta, è una ricetta totalmente mobilizzata Questa alta tecnologia è arrivata dal suzzo due o tre anni fa, non di più Adesso siamo alla casa del vapore Adesso siamo in località, ci siamo trasferiti Così normalmente siamo alla località casa del vapore Ciao Marco Osservare la consistenza Adesso è arrivato come consistenza Ma sempre QB? O il sale o ci sono delle quantità, chilogrammo O il sale, ci va 8 Non si è mangiato Ma che dopo va salata dopo Ok Sarà stato un cucchiaio grande di sale L'aggiunta del rosmarino Quantità del rosmarino più o meno? Sì Ah se io ho, che dipende C'è lì Vieni, vieni Andiamo a vedere la preparazione Fatti con la crema di... La burlina con rosmarino Con rosmarino? Con rosmarino Preparazione del calore dell'olio Questa è un po' il batter del fritto Del fritto Del fritto Io non mi prendo responsabilità Per quello che è stato detto Ciao Mauro Ciao Mauro Ciao Mauro Ma questo qua quindi è un rosmarino È un rosmarino però È simile a rosmarino Quando essendo coltivato in alta partitona Non è un rosmarino ma è un ros montano Asciughiamo leggermente il prodotto Con una leggera pressione Questo è il nostro prodotto Finito Che verrà farcito con Coppa pancetta salame Ehi 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 Vai Ci siamo? Ci siamo L'assaggio ufficiale Andiamo all'assaggio Con l'assaggio ufficiale Bene Ecco un po' di perdita da sotto La mia strada Alla tua età le perdite sono normali Perché le perdite? Recupero le Prenda bambini